Il Comune di Agropoli, assessorato alle politiche sociali nell'ambito del progetto La prevenzione non va in vacanza, terza edizione, ha organizzato in collaborazione con l'Unione Italiana Cecchi e Ipovedenti due mattinate di visite oculistiche gratuite presso il Lido Accessibile, Lido e Raggio Verde, lungomare San Marco. Sarà possibile dunque effettuare uno screening oculistico gratuito aperto a residenti e turisti nei giorni di martedì 13 e di mercoledì 14 luglio dalle ore 9 alle ore 13.